buongiorno a tutti allora sono manco un minuto alle 10 sono partecipanti 16 in questo momento quelli iscritti sono 27 magari se marco è d'accordo aspettiamo cinque minuti non di più e quindi un attimo di pazienza per aspettare i ritardatari lo schema del webinar è noto a tutti quindi marco casciaro gentili ci farà un'esposizione su finanza strutturata e intensa concentrata in 20 minuti poi ci sarà un tempo di per le domande risposte di 30 minuti circa quando necessita si stima 30 minuti e poi poi c'è la possibilità di approfondire tra 15 20 giorni metteremo la notifica per argomenti specifici eventualmente su casi reali di aziende clienti di noi partenere enterprise europe network e c'è le domande eventualmente si possono anche prenotare sulla piattaforma webinar c'è una struttura apposta che si può fare giusto per essere organizzata e preparata prima e se poi ci sarà richiesta questo schema potrà andare avanti sempre nel senso che su casi concreti per di nostre aziende le aziende stesse eventualmente potranno chiedere un altro webinar su argomenti specifici raggiunto un certo numero 7 8 faremo l'altro webinar sia per questo webinar che per gli altri quattro di questo tipo che sono in programma cadenzati da una settimana oggi mercoledì prossimi saranno i lunedì alle ore 10 aspettiamo qualche altro minuto poi quando marco vuole iniziare direttamente proverei a iniziare questo questo webinar allora innanzitutto se chiaramente se avete bisogno di delucidazioni su quello che vi dirò vi prego di ovviamente di segnarvi le domande in modo tale che poi faremo una una specie di di confronto per per approfondire i i dettagli laddove ci dovesse essere bisogno allora questo webinar nasce con l'obiettivo di darvi una serie di punti di riferimento e una visione totale di quello che è il mercato in cui all'interno di cui ci muoviamo come tutti sappiamo per il tessuto imprenditoriale italiano è fondamentale l'appoggio di alcune tipologie di investitori che tipicamente lavorano sugli asset illiquidi che cosa sono gli asset illiquidi gli asset illiquidi sono sostanzialmente tutti gli asset quindi tutti gli attivi che volendo monetizzare di cui la monetizzazione non è immediata per cui un un asset illiquido per esempio potrebbe essere tutto il mondo dei crediti quando parlo del mondo dei crediti chi insomma come voi gestisce delle aziende sa bene che si parla di un mondo molto ampio esistono crediti di ogni genere che vanno dai crediti performing e poi vediamo facciamo magari un breve excursus dai crediti performing ai crediti no performing dopodiché ci sono delle suddivisioni verticali ovvero per debitore quindi se il credito è un credito commerciale tra corporate se invece si tratta di un credito verso pubblica amministrazione o se si tratta di un credito fiscale iva eccetera dopodiché all'interno delle stesse classificazioni ci sono ulteriori classificazioni perché un credito commerciale può essere in bonus può essere in litigation può avere un già raggiunto la formula esecutiva quindi un titolo esecutivo tutto questo mondo di asset su cui ovviamente esiste un mercato finanziario molto florido è un mondo molto ampio all'interno del mercato degli investitori esistono molte tipologie di investitori che si stratificano su questo mercato sono degli investi delle tipologie di investitori che tipicamente non si sovrappongono tra di loro e adesso magari vi do qualche dettaglio per arrivare più o meno a ad avere un'idea di come gira il mercato allora la fascia più economica degli investitori quando parlo di fascia economica intendo un investitore che ha chiaramente sempre istituzionali che ha un obiettivo di erar quindi di rendimento non eccessivamente alto quindi parliamo di banche commerciali ad esempio le banche commerciali tipicamente girano su quattro cinque punti di erar annui ok è chiaro che quando gli obiettivi di erar sono così eh bassi è chiaro che la selezione sulla bontà del credito del cedente e del debitore è una selezione molto attenta per cui in banca ovviamente si possono cedere solo determinati crediti solo determinati debitori che sostanzialmente rappresentano un rapporto rischio rendimento di un determinato tipo chiaramente le tipolo la tipologia del credito definisce la tipologia dell'investitore ma molto spesso anche viceversa che significa significa che all'interno di blocchi precostituiti di investitori specializzati in alcune tipologie di asset e non in altre poi ci sono degli investitori invece che sono generici ovvero sono degli investitori finanziari che in teoria sono interessati a un rendimento dopodiché non magari non hanno ben chiaro oppure sono molto ampi di vedute e non hanno ben chiaro su cosa vogliono andare ad investire questi tipicamente eh si raggruppano questi investitori e vanno ad acquistare delle notes che sono delle obbligazioni emesse da dei veicoli spb 130 sono dei veicoli i veicoli spb 130 sono dei veicoli eh ex 130 ex articolo 130 del tube che servono sono sostanzialmente delle società vuote eh che servono esclusivamente ad acquistare degli asset contemporaneamente a emettere sul mercato finanziario delle notes che eh ovviamente promettono delle cedule di interesse a degli investitori e con questo processo sostanzialmente un processo che viene chiamato il processo di cartolarizzazione si rende mh vendibile sul mercato finanziario un asset sottostante che altrimenti non sarebbe vendibile per cui per dirla in maniera molto molto banale eh degli investitori non si possono scambiare non possono tradare una fattura commerciale possono bensì tradare una un'obbligazione di un veicolo che ha acquistato un sottostante commerciale quindi diciamo che la cartolarizzazione in fin dei conti serve a rendere eh trasferibile sul mercato finanziario qualcosa che in origine non sarebbe possibile trasferire ehm quindi torniamo un attimo al mondo degli investitori e facciamo un attimo l'elenco completo così che poi cominciamo a darci un pochino le linee di guida di quali sono gli atteggiamenti commerciali di ogni investitore e quali possono essere i benefici. Allora come dicevamo i quegli investitori che hanno eh obiettivi di rendimento più bassi in assoluto sono le banche commerciali che dicevamo girano intorno ai quattro cinque punti di rendimento l'anno. Ovviamente hanno una ehm una black list ovvero una lista di debitori eh che non possono trattare tipicamente è chiaro che chi come una banca commerciale tratta crediti a quattro cinque punti l'anno di eh di rendimento difficilmente può andare a valutare crediti verso un comune indissesto piuttosto che eh un predissesto. È chiaro che la banca può operare solo all'interno di quel credito che gira più o meno regolarmente con un rischio debitore eh accettabile quindi molto basso se si tratta di una banca commerciale. Ehm è per questo che poi eh si sono in qualche modo studiati e inventati la soluzione della certificazione MEF che a differenza di una certificazione qualunque eh poiché è rilasciata sul sulla piattaforma certificazione crediti eh del MEF eh essa rappresenta la possibilità eh di un investitore di annullare il rischio revocatoria. Questo che cosa significa? Significa che se un investitore compra un credito certificato eh da un'azienda e poi quell'azienda fallisce se la certificazione era una certificazione mh standard eh purtroppo il l'investitore non rischia di finire all'interno della revocatoria quindi qualcuno andrà a dirgli ma avete fatto una cessione su degli asset su una società che poi è fallita eh mi dovete dimostrare che non avevate nessun tipo di ehm rabbisaglia del fatto che eh sarebbe fallita altrimenti ci richiedono indietro il credito. Quando invece è supportato il credito è supportato da una certificazione MEF anche qualora il il cedente eh vada in default il cessionario è malevato e quindi non rientra nella revocatoria. Eh ovviamente questa è la tipologia di crediti il credito verso pubblica amministrazione certificato MEF è la tipologia di crediti più certa eh in assoluto per cui è chiaramente quella che maggiormente eh interessa le banche commerciali. Dopo le banche commerciali c'è un altro piano di investitori ovvero banche d'affari e factor. Le banche d'affari e i factor sono anche questi dei degli operatori bancari che però hanno a differenza della banca commerciale hanno un rendimenti di obiettivo un pochino più elevati e chiaramente anche ehm lista di eh una blacklist di operatori non graditi di 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 debitori non cedibili piuttosto che di rating cedenti accettabili o meno ehm e sono sicuramente eh degli operatori che arrivano e hanno esclusivo interesse all'asset a differenza delle banche commerciali perché voi capite bene che entrare in banca in una banca commerciale per chiedere una uno smobilizzo di un asset significa che poi la banca commerciale vi propone il conto corrente, vi propone la carta di credito, il mutuo corporate, il chirografario e quant'altro. La banca d'affari che tipicamente è una banca estera difficilmente a questo genere di eh di approccio ha un approccio un pochino più ehm particolareggiato ed è solo ed esclusivamente sull'asset quindi ovviamente sono un pochino più aggressivi nella valutazione del del dell'asset sottostante. Ulteriore livello di investitori e e ci troviamo nel mondo dei veicoli SPV. Gli SPV come vi dicevo prima sono dei veicoli di cartolarizzazione che vengono creati secondo eh l'articolo centotrenta del tub che eh definisce appunto la struttura. La cartolarizzazione quando voi sentite parlare di cartolarizzazione in realtà eh per voi eh la cessione prosoluto a una banca piuttosto che una cartolarizzazione in realtà non cambia nulla cioè l'effetto verso il cedente è sempre quello di smobilizzare un asset eh in una determinata eh modalità in questo caso per esempio prosoluto. Ehm la differenza fra cartolarizzazione e una banca che compra il credito e non lo cartolarizza è semplicemente nell'approccio di funding della banca e di recupero del credito da parte della banca. Che cosa significa? Significa che la cartolarizzazione comincia come qualunque eh cessione prosoluto con una cessione dell'asset. Dopodiché che cosa cambia eh in una cessione normale rispetto a una cartolarizzazione? Che in una cessione normale la banca si terrà i vostri crediti acquistati all'interno dei propri libri e deciderà come andare a recuperare il credito dal debitore ceduto. Nella cartolarizzazione invece ehm questo processo avviene all'interno del veicolo. La banca a quel punto o l'investitore che ha sottoscritto le notes è un puro investitore finanziario e ehm per cui è chiaro che non entra nella gestione e nella nella decisione di 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 come gestire il recupero dell'asset sottostante. Di solito l'SPD viene governato da una serie di operatori che sono il master service che è l'operatore che sostanzialmente è abilitato a fare le comunicazioni presso Banca d'Italia. Eh un sub servicer che di solito è l'operatore che si occupa della collection di recupero del credito e poi esiste uno special servicer che di solito è chi coordina più sub servicer laddove ce ne fossero e mantiene la contabilità del veicolo. Quindi queste sono le figure principali all'interno di un veicolo di cartolarizzazione e sono queste figure che ovviamente gestiscono l'asset sottostante. L'investitore è un investitore puramente finanziario che sottoscrive le notes in base a un business plan che gli si è presentato e in base a una promessa di rendimento che gli si è presentato. Questo ovviamente fa sì che all'interno eh di un veicolo SPV possano trovare spazio investitori di vario genere. Non è difficile trovare tra chi sottoscrive le notes di alcuni SPV eh fondi piuttosto che club deal di investitori privati ehm che decidono di diversificare i propri investimenti. Ehm a differenza dei primi delle prime tipologie eh di operatori che abbiamo descritto ovvero banche commerciali banche d'affari e eh factor. Questi primi tre tipo queste prime tipologie di eh investitori hanno un plus ma hanno anche dei delle delle problematiche. Il plus è sicuramente come dicevamo prima un ventaglio di prodotti che si possono offrire al cliente molto ampio. Ehm c'è però da dire che laddove eh il nostro rapporto dovesse incentrarsi sulla cessione di asset certi liquidi quindi di crediti. Ehm la banca potrebbe essere un una controparte che ci porta delle difficoltà. Perché? Perché nel momento in cui si procede per esempio con una cessione prosoluto verso una banca la banca ha obbligo di segnalazione eh dell'operazione in centrale rischi benché anche benché negli autoliquidanti. Però che cosa significa? Significa che qualunque banca in cui voi entrate e andate a chiedere di fare uno sconto fattura piuttosto che una cessione prosoluto di un debitore avrà visibilità di tutto quello che avete già ceduto a ad altre controparti bancarie. E in ogni caso vi assicuro perché io vengo dall'interno eh ero prima nel mondo bancario e vi assicuro che nel momento in cui si riceve questa informazione la si considera un pochino come se eh la società avesse già ehm partecipato avesse si fosse già appoggiata al mercato bancario per ricevere un supporto. Quindi non è facile poi procedere con le cessioni successive benché è abbastanza eh assurdo come discorso però purtroppo è la prassi. Eh a differenza ad esempio i veicoli 130 non hanno obbligo di segnalazione in centrale rischi nessuno lo fa e eh ulteriore grande differenza mentre banche factor e eh banche d'affari hanno l'obbligo eh di notifica della cessione i veicoli hanno esclusivamente l'obbligo pubblicistico in gazzetta ufficiale. Ecco il motivo perché alcuni veicoli riescono ad esempio a fare operazioni eh senza notifica le famose not not ovvero not notification. Questo ehm è un una operatività che risulta molto utile ad esempio quando la nostra committente, il nostro debitore che intendiamo cedere è per esempio eh nel campo dell'hotellerie che eh o della GDO che tipicamente inserisce ehm i divieti di cessione quanto meno relativi sul credito. Ehm quindi l'operatività dei veicoli è sicuramente più ampia rispetto a quella dei precedenti investitori che abbiamo illustrato ehm anche se tipicamente è più costosa. Questo eh è evidente. Laddove eh laddove banche abbiamo detto che girano a quattro cinque punti sui veicoli cominciamo a girare intorno al doppio. Questo perché? Perché ovviamente il veicolo deve pagare i rendimenti sulle notes agli investitori e deve coprire tutti i costi di funzionamento all'interno per tutti gli operatori che vi dicevo che intervengono nella filiera. Quindi ehm quello che eh che esce sul mercato è un prezzo sicuramente più alto rispetto a quello eh che si trova sul mercato bancario laddove i debitori dovessero essere accettati. Eh ultima grande tipologia standard di investitori sono i grandi fondi. Quindi i fondi di eh private equity, di asset management piuttosto che ehm altra tipologia di fondi di investimento e di hedge fund. Ehm questi tipicamente sono degli operatori che vanno alla ricerca di rendimenti. Indi per cui quando si ha a che fare con questi operatori è vero che si ragiona con rendimenti che vengono definiti double digit. Quindi a due cifre. Eh in realtà questo potrebbe far far pensare a un dieci per cento. In realtà girano quasi al doppio. Quindi ci sono hedge fund e fondi che girano circa al venti per cento anno di ritorno. È chiaro che non sono in concorrenza con gli operatori che che abbiamo visto prima. Perché? Perché è un azienda che ha un credito commerciale verso una controparte buona. Gira a tre mesi. Difficilmente va a lasciare venti punti a a a un a un fondo. Diamo che il rapporto rischio rendimento dai primi operatori che abbiamo nominato agli ulti. Questo da una parte ci dà la visione eh esistano eh soluzioni per qualunque esigenza. Eh quando si parla di asset illiquido non è esagerare non è esagerato dire che esiste un mercato per ogni asset. Tutto a un prezzo nel mercato finanziario. ehm dal no performing chirografario che è probabilmente eh la tipologia di credito eh che viene viene valutata in maniera meno meno buona fino ad arrivare ai crediti commerciali performing o ai crediti performing verso la pubblica amministrazione centrale che ovviamente eh girano eh girano all'interno dell'anno. Quindi all'interno di questa forbice troviamo tutto il mondo tutto il mondo degli asset illiquidi. Se vogliamo avere dei dei flash di riferimento i crediti mh no performing chirografari sul mercato vengono scambiati da dal 2 al 5% del nominale eh laddove i crediti no performing dovessero essere ipotecari il mercato sul mercato finanziario o quando io dico su un mercato finanziario intendo sul mercato primario. Significa eh quando un portafoglio è in pancia una banca e viene venduta questo portafoglio accade nelle cessioni successive dal fondo ad altri è tutta un'altra storia ed entra nel mercato dei fondi un credito no performing e il 30% in base alle. Poi abbiamo i tipologie di crediti verso una pubblica amministrazione e per il rating del debitore ceduto e per la possibilità o meno del debitore ceduto di certificare su piattaforma MEF e per la volontà o meno di certificare e per la tipologia eh di servizio o bene sottostante che magari ha determinate eh limitazioni per esempio mi viene in mente il campo delle costruzioni che a differenza della fornitura funziona con i SAL e che ovviamente mh ci pone una serie di rischi di rischiosità maggiori a cui trovare copertura presso gli investitori ehm la il credito verso pubblica amministrazione anche questo può essere in bonus può essere in litigation può essere un titolo esecutivo la pubblica amministrazione ceduta può essere centrale o periferica chiaramente centrale preferibile periferica viene sempre valutata mh meno positivamente e poi bisogna scendere all'interno del rating di ogni debitore per capire effettivamente se sia bancabile o meno eh rating a rischio di sesto in banca non magari ci dicono di no eh qualche veicolo ce li può valutare ehm diciamo al di fuori della loro operatività standard un hedge fund fa il suo prezzo e e ovviamente prova a fare prova a fare il suo business sul mercato questo mh ci deve far capire che con un approccio integrato si possono andare a lavorare tutte le tipologie di asset in liquido che una azienda o una società può avere al interno diversificando l'approccio eh di trattativa con ogni investitore per cui la cosa fondamentale quando si ehm ci si prefigge di monetizzare degli asset e quindi di ricavare liquidità senza dover ricorrere a indebitamento bancario perché quelli sono valori che già abbiamo all'interno del nostro bilancio e che non solo già abbiamo all'interno del nostro bilancio ma che monetizzandoli ovviamente migliorano tutti gli indici del nostro bilancio per cui eh è una è un doppio è un doppio vantaggio quello di ricorrere agli asset liquidi da smobilizzare nel momento in cui si ha necessità di liquidità ehm la eh panoramica eh delle operazioni più o meno eh è questa del mercato standard poi si entra nel mercato dei veicoli che fanno finanza strutturata e con i quali in realtà si può montare più o meno tutto perché per la logica che vi spiegavo prima nel momento in cui si ha eh il riferimento di alcuni investitori si può tranquillamente spiegare a un gruppo di investitori una tipologia una tipologia di asset laddove per esempio in banca non troviamo soluzione eh fargli capire i rischi fargli capire le coperture di questi rischi fargli capire chi si occupa di cosa a quel punto eh per l'investitore rimane una valutazione del tipo di rendimento e del tipo di eh differenziazione del loro del proprio portafoglio quindi diciamo che è possibile tranquillamente eh portare sul tavolo degli investitori crediti non standard è ovvio che bisogna farlo eh considerando la necessità di fondi e veicoli di avere dei eh dei volumi importanti per per fare un setup su un asset che non è tipicamente lavorato eh però nessuno vieta quindi eh possiamo ragionare su qualunque tipologia di credito di ehm possiamo andare ad operare su qualunque tipologia di asset laddove l'asset dovesse essere non sufficiente eh il nostro approccio è un approccio integrato voi dovete sapere che Xanto nasce come boutique fintech per insurtech fintech per la finanza strutturata quindi sostanzialmente noi riusciamo a eh normalizzare un business se eh abbiamo l'opportunità di eh lavorare su una tipologia di asset che riguarda magari eh una tipologia di aziende possiamo sicuramente mettere sul tavolo una proposta a diversi investitori e eh proporgli un meccanismo di di cartolarizzazione questo ve lo sto dicendo perché laddove le vostre esigenze e necessità fossero un pochino fuori dallo standard dei crediti scambiabili sul mercato con gli operatori soliti ehm questo non significa che non esistano soluzioni ripeto è chiaro quando si deve trovare una soluzione su un asset nuovo su un business nuovo l'importante per destare interesse da parte degli investitori è il volume aggredibile nel tempo eh quindi questo per per concetto di massima ehm noi eh lavoriamo sia con veicoli terzi noi lavoriamo con tutti gli operatori banche fattore banche d'affari veicoli ehm i veicoli lavoriamo sia con veicoli terzi sia costituiamo noi stessi dei veicoli di eh di cartolarizzazione per andare ad acquistare sul mercato eh delle special opportunities le special opportunities sono un pochino quello che vi dicevo prima cioè quello che non rientra nello standard ma che mh garantendo un buon rendimento eh può essere valutato eh la eh diciamo anche il mondo del la il modo della rapidità di risposta da parte degli investitori è molto molto differente per cui ma man mano saliamo con il rendimento eh via eh anche la velocità però ovviamente batte l'asset di cui si sta parlando per cui ci vogliono quindici giorni un credito pubblico amministrazione si fa anche in una settimana se certificato un eh credito no performing o un credito IVA eh magari ci vuole un mese la prima volta e quindi bisogna appunto tenere presente di questo lasso di tempo necessario in cui l'investitore farà tutta la sua due diligence sulle tre componenti fondamentali del deal ovvero il cedente il credito e il debitore analizzerà il debitore dal punto di vista del rating e dal punto di vista del bilancio analizzerà il credito dal punto di vista della tipologia del credito del contratto sottostante degli interessi moratori che maturiamo eccetera e eh in base alle tempistiche standard di pagamento riscontrate su quel debitore e poi chiaramente si passa ad un'analisi corporate sul cedente che è tanto più eh invasiva quanto più eh chiaramente è rischioso il deal per cui la due diligence eh corporate su un cedente che mi cede crediti verso pubblica amministrazione certificati MEF è sicuramente molto più blanda. Eh la eh due diligence fatta su un credito IVA in bonus è molto approfondita ovviamente. Questo per 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 dire che ovviamente il mercato è molto vario riesce a dare risposta quasi a quasi a tutto c'è qualcosa che si muove più velocemente e qualcosa che invece è un pochino più complesso eh ma anche per la tipologia di controlli che si dovranno si deve andare a fare per verificare la bontà del 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 deal. Allo stesso modo anche sui fallimenti e sulle procedure è possibile operare eh in diversi modi. Il modo in cui più facilmente ci troviamo ad operare è quello di andare a di portare investitori su dei fallimenti o su delle procedure eh che hanno in pancia degli asset monetizzabili eh di qualunque tipologia. Anche immobiliare eh quindi questo eh è un pochino eh il mondo eh complessivo degli investitori che si muove sugli asset illiquidi ehm noi abbiamo più o meno rapporto con tutti ehm sappiamo più o meno chi ha appetito per cosa. Quindi ci sappiamo anche muovere eh nel momento in cui andiamo a valutare un'esigenza. Eh il nostro modus operandi per tutto quello che vi stavo accennando ovviamente è quello di procedere a una valutazione prima degli asset da smobilizzare perché molto spesso eh la soluzione eccellente non è una soluzione univoca ovvero all'interno del del patrimonio asset di una società è una cosa buona operare una valutazione una clasterizzazione quindi andare per bontà per la strategia sugli investitori sottostante questo serve. Dall'altra serve anche perché chiaramente eh l'errore che più tipicamente si fa è andare in banca e dire sì io ti cedo il credito buono verso il comune di Milano però tu mi devi prendere anche il credito verso il comune di Sesto. Allora un discorso di questo genere la banca magari lo fa pure eh ma è chiaro che prezzerà in maniera molto bassa quasi a zero quel credito che nella media ovviamente abbasserà il prezzo totale. Andando invece su operatori eh specializzati sugli incagli è possibile ottenere eh un prezzo sicuramente più alto. Anche perché perché poi l'operatore che tratta specificatamente eh l'incaglio piuttosto che l'utpi piuttosto che l'utpi piuttosto che il 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 la 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 sofferenza ha sicuramente più esperienza e più struttura per andare a trattare quella tipologia di asset e quindi una banca che che focalizza la strategia eh è una strategia fondamentale in maniera tale da avere più riferimento e ci aiuterà in in una esigenza specifica. Ad esempio ci sono le piattaforme fintech dedicate all'invoice action quindi sostanzialmente eh delle piattaforme dei marketplace badate bene ehm difficilmente troverete sul mercato delle piattaforme fintech che sono degli investitori. Le piattaforme fintech sono tipicamente dei marketplace quindi dei mercati elettronici all'interno dei quali si incontrano domande d'offerta eh e all'interno dei quali ci sono alcuni investitori iscritti che eh che fanno offerte sugli asset posti in vetrina. Eh anche questa tipologia di soluzione potrebbe essere una tipologia perseguibile perché ovviamente dà dei vantaggi importanti non vincola su eh sulla cessione di massa quindi si può cedere anche solo una eh una fattura poi non cederne tre ricederne un'altra piuttosto che eh invece andare a cercare con degli operatori più strutturati un rapporto continuativo e revolving che si sviluppi nell'anno e che copra una parte del 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 fabbisogno eh eh finanziario dell'impresa mentre eh sviluppa il suo curato su quel debito io eh penso di aver parlato forse anche troppo se ci sono domande che si possono scrivere in chat. Vi ricordo comunque che sarà disponibile la registrazione ai registrati ai partecipanti e si possono fare domande poi acquisire domande per una replica successiva del web. Allora eh riprendiamo eh stavamo dicendo eh non non ho capito se ci sono delle domande, degli approfondimenti che vi interessa fare su qualche qualche esigenza in particolare eh sono a vostra disposizione. eh lei adesso non vede l'area della chat giusto? No 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 la sto vedendo, la sto guardando. Sì sì. Ok. C'è la collega Giada che chiede se potrebbe farci degli esempi pratici eh di aziende che si rivolgono agli operatori e come funziona il percorso. Assolutamente sì. Allora eh le aziende tipicamente si rivolgono alle banche eh non non hanno ovviamente eh conoscenza del mercato degli investitori eh in senso ampio quindi tipicamente si va in banca e si chiede la possibilità di fare una cessione. Se questo eh non è possibile anzi di solito non lo è eh ci si rivolge a operatori specializzati come possiamo essere noi che eh sostanzialmente vanno a fare una una valutazione eh sul mercato di quali istituti o investitori potrebbero essere interessati a quell'operazione in particolare in base alle alle caratteristiche che presenta. Eh una volta che si entra in contatto con l'investitore tipicamente comincia una fase di due diligence. La fase di due diligence è una fase che può andare dai 7 ai 30 giorni in base alla complessità dell'asset. Alla fine della quale eh l'investitore decide se eh advenire alla cessione, arrivare alla cessione, quindi dare un prezzo definitivo e eh vincolante che se accettato porta direttamente in cessione. La cessione può avvenire in diversi modi eh eh quando si tratta di una credito verso amministrazione la cessione deve essere pubblica e quindi abbiamo due opzioni. Se il credito è certificato da piattaforma MEF si può operare anche attraverso una scrittura privata autenticata che poi viene però ehm notificata via PEC attraverso la piattaforma del MEF. Allora in questo caso è possibile advenire alla cessione e tra l'altro eh sulla piattaforma eh deve decorrere un tempo di 7 giorni per il silenzio assenso. Quindi voi sapete che la pubblica amministrazione in teoria deve accettare la cessione o quantomeno non la deve rifiutare esplicitamente. Quindi mentre tipicamente se si va dal notaio e si fa una cessione, si notifica la cessione al debitore ceduto, poi bisogna attendere 45 giorni per il silenzio assenso, se si fa una cessione in scrittura privata autenticata che poi è notificata via PEC e poi inserita sulla PCC del MEF, il tempo eh di attesa diventa di 7 giorni, quindi superati i 7 giorni se non si riceve una risposta viene considerato un silenzio assenso. Eh una volta che si è che il debitore ha accettato la cessione eh sostanzialmente che cosa fa? Il debitore procede a cambiare la scheda del proprio cliente, per cui al posto di eh Marco Casciaro SRL si troverà banca X eh con un determinato conto corrente, quindi il debitore sa che quelle fatture relative a quel contratto su cui è stata notificata una cessione non dovrà più pagarle al conto corrente dell'azienda cedente ma dovrà pagarle al conto corrente del cessionario. Ehm quindi questo è un pochino tutto il percorso, a quel punto poi la banca eh incassa direttamente l'ammontare dalla pubblica amministrazione e procede a stornare al cliente quello che deve stornargli se è previsto un rebate perché tipicamente una cessione può avvenire con un prezzo in unica tranche o con un prezzo in più tranche laddove il prezzo in unica tranche lo pagano lo pagano tutto e subito all'accettazione laddove più tranche chiaramente ci sono degli step di incasso che vanno verificati e che portano ovviamente a dilazionare nel tempo il prezzo così come l'incasso. Ehm quindi questo è un pochino il mondo la procedura di come funziona eh successivamente poi in base alla tipologia del ehm del cedente e del dell'investitore si possono raggiungere degli accordi su una collaborazione cioè un investitore può dire mi interessa il credito mi interessa l'asset voglio che l'azienda mi aiuti visto che ha i propri canali presso il debitore voglio che mi aiuti all'incasso e quindi poi ci sono diverse forme di collaborazione per l'incasso eh però diciamo che la struttura di base è questa quindi il processo è presentazione della documentazione due diligence da parte dell'investitore prezzo lettera di utenti con prezzo definitivo eh cessione notifica pagamento questo è un po' il percorso spero di aver risposto alla al quesito bene privati intendiamo eh persone fisiche ok i professionisti verso i crediti dei professionisti privati verso la PA ehm sono crediti cedibili quindi chiaramente parliamo di professionisti ingegneri avvocati eh che eh vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione è un mercato molto di nicchia è un mercato di nicchia perché perché l'investitore che poi decide di andare a acquistare questo genere di crediti deve essere pronto a fare da sostituto di imposta eh che è un'attività abbastanza gravosa se se comincia a esserci un portafoglio clienti importante abbiamo dei veicoli eh che sono interessati e che ci stanno valutando crediti di professionisti verso il settore pubblico ovviamente parliamo di crediti certificati in questo caso per cui sì è assolutamente possibile cedere anche crediti dei privati verso la pubblica amministrazione se definiamo come privati professionisti avvocati eccetera che hanno svolto dei servizi per conto della pubblica amministrazione hanno emesso regolare fattura commerciale quindi poi mh la stessa può essere certificata attraverso la piattaforma ma invece se sono crediti da azienda verso aziende non crediti verso pubblica amministrazione? Allora i crediti delle aziende verso aziende sono assolutamente dei crediti bancabili sono assolutamente dei crediti bancabili ovviamente il tutto si riduce a una valutazione di quale eh la solidità del cedente e qual è la solidità del cessione del del ceduto è chiaro che eh cedere i crediti verso una piccola srl è un discorso cedere i crediti è un discorso cedere i crediti bancabili sono assolutamente possibili eh le cessioni fra crediti commerciali la cosa fondamentale è lo standing del debitore ceduto perché se si tratta di piccole e medie imprese eh probabilmente chi è dall'altra parte valuterebbe l'asset come un asset no performing eh e per cui bisogna vedere se poi è in linea con le attese di eh di incasso da parte del cedente. Eh non so se ci sono altre domande e curiosità sì qualche cosa di più sulla due diligence perché spesso la due diligence può essere particolarmente onerosa assolutamente sì allora la due diligence serve a ehm effettivamente verificare le tre componenti del deal quindi lo stato di salute del debitore eh la tipologia del credito lo stato di salute del cedente eh come vi dicevo prima ovviamente la necessità di scavare eh in due diligence eh è tanto più elevata quanto più rischioso ovviamente il credito di cui si sta parlando per cui se parliamo di un credito certificato via sicuramente la due diligence è più blanda se parliamo di un credito corporate sicuramente la due diligence è più è più importante nella due diligence si devono e si possono andare a vedere diverse cose la liquidità la solidità il rapporto tra indebitamento e risorse proprie la centrale dei rischi che è una cosa fondamentale guardate la maggior parte delle banche che decide la propria due diligence a parte chiaramente sugli eventi di conservatori eccetera la decide sulla base della centrale dei rischi cioè effettivamente se il debitore è buono e il credito è buono quello che vanno a verificare è quanto si è tesi in centrale dei rischi questo è il motivo principale del perché quando si può si dovrebbe optare per un prosoluto perché che cosa succede nel anzi addirittura un prosoluto con dei veicoli finanziari perché all'interno del panorama bancario come vi ho detto rientrate comunque in centrale dei rischi anche se negli autoliquidanti mentre invece con i veicoli finanziari sicuramente avete un approccio molto più leggero da questo punto di vista la due diligence è fondamentale per andare a definire che il credito sia certo liquido ed esigibile perché guardate guardate bene in Italia il il prosoluto nel vero senso del termine non esiste ma probabilmente non esiste nel mondo nel senso che il rischio che gli investitori accettano di prendersi su un asset quando viene considerato prosoluto è un rischio di timing non un rischio di esigibilità vuol dire che nel momento della cessione di qualunque tipologia di asset quindi anche se parliamo di un asset in litigation anche se parliamo di un un credito non certificato e contestato la la cosa fondamentale è andare a capire quanto questo credito sia certo liquido ed esigibile in un in un qualunque contratto di cessione prosoluto il cedente dichiara che quel credito è certo liquido ed esigibile quindi l'investitore dall'altra parte si prende il rischio di incassare quel credito in tre piuttosto che in sei piuttosto che in nove piuttosto che in dodici mesi ma qualora poi nel percorso il debitore ceduto dovesse contestare quelle fatture cedute mettendo in discussione la certezza la liquidità e l'esigibilità a quel punto si rientra all'interno delle casistiche di misrep ovvero misrepresentation quindi si è dichiarato che il credito è certo liquido ed esigibile si è venduto dopodiché si è scoperto che quel credito effettivamente non era certo liquido ed esigibile la banca vi torna indietro e vi chiede gli interessi su quanto vi ha già dato ma questo vale per qualunque investitore cioè quando si vuole fare una cessione prosoluto bisogna in qualche modo dichiarare che quel credito sotto la propria responsabilità che quel credito è certo liquido ed esigibile che non può venire contestato e che non è stato già pagato sostanzialmente quindi queste sono le analisi che si svolgono in due diligence oltre che le analisi che si svolgono lato debitore perché ovviamente bisogna andare a fare un'analisi di solidità e di liquidità anche nel debitore ceduto che è quello da cui poi l'investitore dovrà andare a recuperare le somme per cui l'analisi comprende una visione approfondita di tutti e tre i punti principali del deal cedente lo stato di salute del cedente lo stato e la tipologia del credito e lo stato di salute del debito receduto questo è quanto laddove poi chiaramente uno dei tre elementi in particolare non il credito ma il cedente piuttosto che il debitore dovesse essere un pochino zoppicante è possibile in qualche modo organizzare comunque l'operazione magari apportando dei collaterali ulteriori che possano garantire il cessionario su qualunque tipo di evento imprevisto negativo e quindi a quel punto si possono utilizzare delle assicurazioni sul credito degli strumenti esteri ci sono tante tipologie di collaterali che si può che si può apportare su un'operazione per per dare maggiore confidenza all'investitore di investire allora se non ci sono altre domande vi ripeto la procedura a seguire puliremo il video di la registrazione delle parte morte diciamo e lo metteremo a disposizione dei partecipanti dei registrati quindi si può rivedere in qualsiasi momento le parti poi diamo un po' di tempo per riflessione approfondimenti e tra 15 e 20 giorni possiamo riproporre il webinar magari se le domande le potete inserire sulla nostra piattaforma webinar c'è la specifica voce e avremo modo di iterare il webinar da approfondimento sulle richieste specifiche il prossimo webinar potrà anche analizzare casi reali di imprese e clienti e a seguire potremmo fare delle repliche successive coinvolgendo imprese che naturalmente possono essere interessate hanno questo problema e gli può interessare a questo tipo di servizio questo è tutto se non ci sono altre domande possiamo chiudere e ringraziarvi per la partecipazione oh laddove magari Carmine laddove dovessero pervenirti domande anche successivamente magari ce le scambiamo via mail e vi faccio avere comunque delle risposte anche o in piattaforma insomma come preferite certo il percorso è iniziato, è interattivo insomma cerchiamo di continuare se ti interessa assolutamente sì assolutamente sì assolutamente sì insomma 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 unit ch